Le associazioni e le famiglie dei disabili chiedono al Comune l'annullamento della delibera che ha tagliato le ore di assistenza domiciliare ai disabili e chiedono una presa di posizione anche da parte dei cittadini con il contributo economico di un euro, il prezzo di un caffè, per far fronte alle spese del ricorso presentato al Tar dell'Aquila. Crediamo che sia a questo punto l'unica soluzione possibile. Speriamo che si sono anche forniti di quello che è stato l'elenco tecnico, un elenco molto dettagliato, da quale si vincono violazioni di legge, eccesso di potere e quant'altro, quindi dei motivi che permetterebbero tranquillamente un ricorso al Tar. Intanto questa mattina si è svolto il tavolo tecnico politico sull'argomento. Il sindaco Brucchi ha annunciato che verrà fatta una modifica alla delibera alzando l'asticella dell'Isee e concedendo 4.000 ore in più di assistenza da fine settembre a fine dicembre. Noi abbiamo da mettere a disposizione circa 4.000 ore per questi tre mesi di esilio per arrivare a dicembre. 4.000 ore che verranno assegnate secondo dei nuovi parametri, in particolare il parametro, quello più importante, quello che tiene conto della gravità della patologia. Cioè c'è un nuovo parametro che viene, che è l'indice di Bartel, che tiene conto della gravità della patologia. Resta la compartecipazione, resta l'unicità del servizio, vengono apportati alcuni correttivi che abbiamo già detto all'inizio che volevamo apportare, in particolare l'Isee che passa da 7.500 come Isee di esenzione, quindi lo abbiamo alzato di 2.500 euro, quindi da 5.000 a 7.500 il livello di esenzione e 30.000 euro il livello massimo, quindi passiamo da 13.000 a 14.000 a 30.000, oltre il quale poi la compartecipazione ovviamente è totale. Ma le associazioni ai disabili non ci stanno, si tratta dell'ennesimo contentino che non risolve il problema, ha dichiarato il capogruppo del PD. Noi continuiamo a mantenere ferma la posizione, questa delibera va sospesa, è rinviata la compartecipazione al 2016, perché si sta tentando di fare un'operazione su una delibera profondamente sbagliata con il rischio che si traduca in un contentino e che crea i più pasticci in realtà di quelli che ha già creato. La soluzione migliore è quella, si deve azzerare, valuteremo attentamente quelle che sono le proposte dell'amministrazione, ma soprattutto con le associazioni e con le famiglie che stanno vivendo un momento di grande difficoltà, perché non sono state ascoltate assolutamente in questi mesi, hanno dovuto pagare le conseguenze di una delibera ingiusta. Valuteremo queste proposte, ma ribadiamo che a una delibera ingiusta si può rispondere soltanto con una sospensione. Domani, dunque, è stata confermata la manifestazione sotto al Comune a partire dalle ore 17.